Assolutamente, questa settimana con i nazionali si è servita per lavorare a fondo, duramente e dobbiamo continuare così, dobbiamo fare più punti possibili da quella fine per raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza. La determinazione, la voglia di andare prima sulla palla, come dice sempre il mister, con la cattiveria giusta poi i risultati arrivano, le qualità si esaltano. Il allenamento è la cosa fondamentale, bisogna sempre allenarsi bene per arrivare preparati alla partita. Andiamo là su un campo difficilissimo in cui per loro magari sarebbe una di quelle opportunità di vincere una partita, ma noi assolutamente ci faremo trovare pronti perché anche noi abbiamo bisogno dei tre punti. Grazie.